Sì, un successo per i numeri sicuramente, tanti accessi, tanti seminari frequentatissimi, ma credo anche un successo per la qualità, il coraggio, la determinazione dei tanti che si sono presentati e anche delle aziende che si sono messe in gioco, rendendosi disponibili a sfruttare questo appuntamento proprio per un incrocio privilegiato fra la domanda e l'offerta di lavoro. Tant'è che immaginiamo di dare comunque una continuità all'iniziativa, vediamo in che forme, in che modi, anche perché appunto siamo al centro di una riorganizzazione profonda a livello non solo regionale ma anche statale delle politiche attive del lavoro e della formazione, però questa è la testimonianza che il valore, il patrimonio che viene dal territorio deve essere preso in seria considerazione e ulteriormente rilanciato anche per il futuro perché nell'ambito di una strategia complessiva la rete che negli anni è stata costruita costituisce sicuramente un grande valore. Grazie.